Siamo alla fine del ventesimo secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta. Mai, mai scorderai l'attimo la terra che tremò. L'aria si incendiò e poi silenzio. E gli abbondori sulle case sopra la città senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Chi da quest'incubo nero ci risveglierà? Chi mai potrà? Chi mai pancre? Chi è più? Chi sei tu? Fantastico guerriero Sceso come un fulmine dal cielo Chi è più? Il nostro mondo che era